Benvenuti su Strade Toscana, il format settimanale su viabilità e cantieristica di muoversi in Toscana. Oggi parliamo della E78 Grosseto Fano. Per circa il 65% del tracciato la cosiddetta Due Mari ricade sul territorio toscano in cui è attraverso le province di Grosseto, Siena ed Arezzo. Nel primo tratto tra Grosseto e Siena sono due i lotti ancora con i lavori in corso. Per quanto riguarda l'8-4, ampliamento a quattro corsie di un tratto di 2,8 km tra Lampugnano e Civitella in provincia di Grosseto, lo scorso giugno ANAS quantificò nel 39,97% l'avanzamento dei lavori, i quali termineranno nel dicembre 2026. I cantieri sono andati avanti anche in estate. Lo scorso 20 settembre ANAS fece brillare 80 cariche esplosive disposte su una parete rocciosa, questo per riprofilare la parete di roccia dove nei prossimi mesi si affaccerà la nuova galleria Poggio Tondo, attualmente in fase di scavo dal fronte opposto. Marzo 2026 invece è il termine dei lavori previsto per il lotto 9 nel tratto tra Ornate e lo svincolo di Orgia, mentre la galleria Casaldipari in direzione Siena sarà riaperta nel marzo 2025. Strade Toscane è un servizio settimanale realizzato da Firenze Smart per muoversi in Toscana. Strade Toscane è un servizio settimanale realizzato da Firenze Smart.